Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Mettiamo Pad Questo è il primo episodio Perché no Perché la prossima faccio il secondo episodio È in pausa Però la seconda faccio un altro episodio Quindi andiamo nella prima Ah È inglese però A Antlers Arch Amble Sta camminando Io ora in piedi Andatevene subito Andatevene subito Che io odio Andatevene Perché non è la B? Che schifo Che schifo Oh cos'è? Una bella Un becco Una baba Cosa ci fai tu? Fai falla Vai volare E veni Anchor fly Dai vai volare C'è? C'è un'altra Noi C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra oh mio oh mio dio vola vola mio caro piccolino vola ok cos'è porta chi è oh ciao sole benvenuto oh via 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 non entrate in casa andate nel vostro paese non può essere un sogno vai vai chiamenlo che io ti faccio sparire e non entrate in casa mia quanti ospiti ci sono vabbè facciamo una lettera oh mio dio i denti no no è un uovo di un pulcino io l'ho messo in testa con me è bruttamente a casa guarda che non vede che è dietro guarda guarda che è sopra di lui dove è l'uovo non c'è più un uovo oh è ritornato mi dispiace il uovo va agli ospiti cosa eh vabbè quello me lo riporti indietro abbiamo cresciato il gioco no non vuoi mai di un pulcino stai rolarmi la sua madre ce la do no che si no eat che cavolo è un elefante terra buona via mio piccolino buona via mio piccolino come fai via 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 che stai guardando via che stai guardando via che stai guardando via che stai guardando f cos'è? foot nooo foot piede cos'è? eeeh può volare no 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 non mi dire che può volare nooo veramente no 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 io non vorrei farvi più girare basta oi a voli a voli a voli basta g g chitarra dove sono in questi generolini? dove dove farci? posso tolirli via dalla mia chitarra oh ma sono dei fantasmi ma i fiori diventano fantasmi non ci sono più fiori ah un fior è per te no è diventato questo fior è per te no è un fantasma ghost fantasma no non ci provate nemmeno non ci provate nemmeno non ci provate nemmeno va a ver facciamo la lettera ok mi fermo a il capo si cosa? non c'è hai 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 die diversi ci sono prima di tutti è minima io tutta Vabbè Cos'è? Ma posso farlo volare? Iceberg No, un igloo che sto mangiando Un igloo Com'è qui? Perchè qua? Ah, non so' la roba Ah, non dobbiamo fare un igloo Non so' la roba Non so' la roba Non so' la roba Non ti fate J Non so' la roba K Cos'è? Vado a raricare C'è Dico Io non ti metto in posto di sicuro se tu mi ammetti di fare bravo cosa cos'è no 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 io non ho manckato no no ma ne bravo io ti li sto cosa non 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 Spero che questo è tutto Se volete cercare l'episodio Che direte a me qui sotto dei commenti Iscrivetevi Attivate il campanellino E lasciate un mi piace Ciao